A poche ore dalla visita del segretario generale della NATO Stoltenberg tornano a risuonare dopo quasi un mese le sirene antiaeree a Kiev e in gran parte delle zone intorno alla capitale ucraina. Una notte di tensione con diversi droni russi abbattuti prima che si schiantassero al suolo. Attacchi respinti anche in Donbass, in particolare a Liman, Marinka e nella regione di Donetsk ancora a Bakhmut, città diventata il simbolo della resistenza ucraina dopo oltre sette mesi di assedio da parte anche dei mercenari della brigata Wagner. L'aeronautica di Mosca, come conferma il Cremlino con il ministro della difesa Shoigu, ha colpito con bombe per errore la città russa di Belogord vicina al confine. Palazzi danneggiati, ci sarebbero anche diversi feriti. Una soluzione diplomatica del conflitto non può prescindere dalla Cina. Questo lo sanno benissimo tutte le cancellerie occidentali e anche Washington. Ieri, per ribadire lo stesso concetto, telefonata dal presidente americano Biden e il suo omologo francese Macron, che all'inizio del mese aveva incontrato a Pechino Xi Jinping.